in questa puntata buone cose vi porta anche a lezione a che lezione lo chiediamo subito a stefano gasperi presidente dell'atc modena un ambito territoriale di caccia di cui noi stiamo seguendo l'organizzazione allestimento dei piani di controllo della fauna selvatica in particolare allora gasperi che lezione anche intanto buonasera a tutti certo questa è l'ultima lezione di un corso per codiatori quindi è la prova che la nostra regione attraverso le associazioni agricole e venatorie organizzano i corsi per il tramite dell'atc è un corso per i codiatori per fare i piani di controllo seguirà un esame scritto e orale quindi non è che le cose le facciamo così tanto per fare e una volta superato l'esame vengono inseriti nell'alba dei codiatori e da quel momento poi possono cominciare a fare esercitare l'attività a fare piani di controllo piani di controllo su tutti gli animali quindi a partire dagli animali fossori famosi che fanno i danni alle strutture idrauliche ma anche per quanto riguarda ghiandai e cornacchie volpi che fanno i danni al mondo agricolo alle produzioni agricole e quindi questa è un'attività importantissima perché senza di queste persone diventerebbe molto problematico quello che è appunto il controllo degli animali opportunisti perché così li definiamo e così sono qui vengono fatte le cose come si deve tant'è vero che purtroppo qualche caso viene ribaldato lo dico così per non usare un termine bocciato ecco e per cui è importante è alla portata di tutti però bisogna prestare attenzione perché anche nelle domande che verranno fatte all'esame non c'è più la domanda con le tre risposte come era anche nei quiz ah non ci sono le crocette no no tu devi dare la risposta e quindi vuol dire che devi studiato perché altrimenti non si passa l'esame allora noi siamo venuti a verificare perché finora appunto ne avevamo solo sentito parlare di queste di queste lezioni i coadiutori li avevamo visti all'opera ma e siamo venuti appunto qui a Medolla che è un comune della provincia di Modena che fa parte dell'ambito territoriale di caccia numero 1 appunto quello della bassa pianura 44 in aula a seguire queste lezioni corsi con anche l'esame finale e con insegnanti che sono persone preparate e qualificate come ci ricordava appunto anche il presidente Gasperi uno di questi insegnanti è il dottor Lucio Obici veterinario giusto? In pensione In pensione? Un veterinario per sempre non è che cambia con la pensione Anche al PIN per sempre Dottor Obici benvenuto a Buone Cose innanzitutto Grazie Allora lezioni, corsi, insegnanti qualificati di che cosa si parla in questi corsi? Perché insomma gli animali tutti sappiamo che possono avere le ali, le zampe, essere ungulati o essere volpi o essere tassi o essere istrici che cosa spiegate di questi animali? Beh, seguiamo le indicazioni definite dalla regione Emilia Romagna che pubblica il programma di lavoro nel suo sito e quindi ci atteniamo rigidamente a queste informazioni Senta, le volevo chiedere questo perché mi ero fatto alcuni appunti sugli argomenti appunto che si è già parlato del cinghiale, si è parlato delle volpi, si è parlato in generale insomma di quelle che sono le tematiche ma anche i volatili fanno parte di questa fauna da controllare? Io so che i cormorani vanno a mangiare tutti i pesci anche negli allevamenti questa è una cosa, ma anche i piccioni? Si sente che vai a pescare Allora, anche i piccioni, ed è l'argomento di questa sera che dovrò trattare io Io l'ho chiesto apposta, facciamo finta di fare le cose improvvisate Gli altri con le ali che passano quindi le reti di interdizione fra la coltivazione cosa che non fanno gli altri animali che vanno a piedi, che ali non hanno I corvidi, nella nostra realtà di pianura dove c'è una produzione specializzata di frutta Ok Sono particolarmente invasivi perché appena la frutta comincia a maturare soprattutto quella in alto che riceve più sole Quelli cominciano a mettersi a tavola e facendo danni su il prodotto non è più vendibile Ok Quindi c'è un danno diretto Pallo delle case ladre, picca picca si chiama Pallo della ghiandaia E nelle cocomeraie e così Pallo dei corvidi del genere ma della cornacchia grigia che noi abbiamo qua Ok E quindi queste popolazioni devono essere limitate nel loro sviluppo perché sono veramente esplosive e allontanate con metodi ecologici si dice in qualche modo allontanate perché è il periodo della maturazione dove loro fanno danni Per il piccione invece è una realtà un po' unica all'interno del nostro corso Nel senso che? Perché tutto il resto è rivolto a animali selvatici Sì Che nascono, si riproducono, si alimentano e muoiono in modo autonomo Il piccione che è confondibile con il colombo, i colombi domestici Sì Quindi non si poteva intervenire su di lui Voleva dire che si metteva a tavola e faceva danni L'ente pubblico o gli ATC pagavano i danni Il giorno dopo si rimetteva a tavola e rifaceva gli stessi danni Ok Oppure bisognava addirittura a riseminare il prodotto e quello ripartiva da capo Ah beh Ora dopo molti colloqui e anche qualche occasione fortunata Abbiamo ottenuto ascolto da chi dirige la nostra regione e anche dai tecnici Oggi poiché questo animaletto si riproduce, mangia e vive in modo autonomo Ricoverandosi vecchi fianilli, case in disuso I balconi di città dove le nostre anziane litigano quotidianamente Certo Perché non li vogliono, mettono quei disusori, no? Quelle dita metalliche Ora, questi animali il legislatore finalmente li ha considerati selvatici Ok Perché hanno questa caratteristica L'uomo non interviene sulla loro vita E quindi è possibile intervenire su di loro Così come interveniamo con i selvatici autentici Questo è un animaletto intermedio Intermedio Perché dobbiamo intervenire? Appunto, vi mangia tutto un campo di grano seminato Che danni può fare un piccione? Se si mettono a tavola sono molto gregari E quando cominciano passano voce E potete osservare dei nuvoli di due o trecento soggetti Ok Tutti a tavola, becca tu che becco anch'io Ci sono altri aspetti Quello sanitario Il piccione ha un po' di secche, un po' di virus, un po' di batteri Quando sporca e crea con le proprie feci la trasmissione di questo Senz'altro un ospite non gradito Sì Poiché sono un veterinario ancora oggi E poiché ho lavorato molto nella riproduzione animale Anche al centro tori di Modena Che poi Semen Italy è diventata un riferimento nazionale Se venivano i piccioni da noi Rischiavano di portare la propria tubercolosi Che non si trasmette al bovino Perché erano tubercolosi aviaria Ma sensibilizza il bovino Quindi non si capisce più rapidamente Se il bovino è sano o no Allora i metodi ecologici Sono le reti di interdizione Anche ma Luglio agosto Meglio giugno da noi Mette delle reti Quindi ridurre la reazione delle stalle così È da incubo È da incubo Chiama l'uomo col falco Che li spaventa Tre giorni, quattro giorni Poi i piccioni imparano Che quell'uomo a mezzogiorno Va a tavola Allora aspettano Perché i piccioni hanno l'orologio anche Si mettono a tavola loro Si mettono la tutti sul filo della luce Si mettono la aspettano Il falconiere prende il falco Va a casa e i piccioni arrivano Benissimo È comico Sì 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 L'altro dissuasore ecologico Sono i canoncini Sia per loro che per altri tipo gli stoni Compagnia Bella Tre giorni imparano che non è vero Ah Il botto Parliamoci crudo Sono costi e impegni In tutti i metodi ecologici Ok C'è un aneddoto sul piccione Se vi puoi incuriosire Sì per bacco A Venezia Il doge Comprava i piccioni a primavera Li liberava Poi in autunno Una certa data Un certo giorno Autorizzava i poveri Della popolazione veneta Che voi sapete che è sull'acqua Certo E campi non ne ha A catturarli per motivi alimentari Questa è l'origine dei piccioni Che poi in piazza San Marco Sono diventato un ornamento Un po' esagerato Ecco queste cose qua Benissimo Allora noi lasciamo andare il dottor Obici A tenere la lezione Grazie per essere rimasto insieme a noi Se vi puoi incuriosire Infatti era quello che le volevo chiedere Se vi puoi incuriosire Allora Quando il servizio è nato Sì Questo era il giacchino che mi ero guadagnato io Da quadriutore Da quadriutore Pesante ed era il numero 95 Ora questi uomini indosseranno un giacchino Ben visibile In più Io penso che sia anche una bella pubblicità Presso coloro che non ci conoscono Che c'è un volontario che sta lavorando Per la nostra società Io per averne uno devo partecipare al corso Giusto? E essere promosso Ed essere promosso Allora Per evitare brutte figure Grazie mille al dottor Obici Per essere rimasto insieme a noi Io vado a lezione Piccola pausa Per buone cose Torniamo tra pochissimo Ma è difficile Cioè si può copiare l'esame No 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 Lo